Madre Immacolata, Madre di Gesù e Madre mia, Maria, Regina della Polonia, prendendo come esempio San Giovanni Paolo II, oggi ti dico sono tutto tuo. Affido al tuo cuore immacolato me stesso e tutto ciò che sono, la mente, il cuore, la volontà, il corpo, l'anima, le emozioni, la memoria, le ferite, le debolezze, il mio passato sin dal concepimento, il presente e il futuro fino alla mia morte, ogni mio passo, azione, parole e pensieri. Affido al tuo cuore immacolato anche la mia famiglia e tutto ciò che possiedo. Ti affido le mie opere, preghiere e sofferenze. Tu che sei la migliore delle madri, proteggi me e i miei cari da ogni male. Intercedi per le grazie necessarie della conversione e guarigione. Guidaci nel cammino della vita e fai di noi strumenti per costruire il regno di tuo figlio Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, da cui proviene ogni bene, la verità e la vita. Amo. Nostra Signora di Częstochowa prega per noi.